Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Allora, la lettura che ho fatto in questi giorni è La cattiva strada di Sébastienne Gepisroth e la casa editrice Delfi. Direte tanto per cambiare, perché ultimamente mi sta appassionando questa casa editrice. Il costo di 18 euro e il numero delle pagine di 218. Allora, è un libro molto particolare. Siamo in Francia, gli anni sono quelli della Seconda Guerra Mondiale e i protagonisti molto insoliti sono un ragazzino di 14 anni che frequenta un istituto maschile e in cui va a scuola tutto il giorno e una suora, una suora giovane, una ragazza di 26 anni. Le giornate di questo ragazzino si susseguono tutte nello stesso modo ovvero ogni giorno lui si sveglia, va a scuola è seguito appunto da preti che cercano di dargli un'istruzione e lui ha un modo di fare molto ribelle quindi viene spesso punito dovrà fare molto spesso delle ore di punizione aggiuntive ha già l'orario di scolastico molto molto lungo. fino a quando un giorno un prete si accorge che lui non va mai in ospedale a prestare servizio di carità lo spingerà a farlo e proprio in questo ospedale scusate c'è una mosca proprio in questo ospedale conoscerà una suora che si presenterà appunto a lui e fin da subito c'è una chimica molto molto strana e appunto Dennis, e questo è il nome del nostro protagonista comincerà a pensare a questa suora giorno e notte e la cosa molto molto strana è anche che la nostra suora, che si chiama Clotilde comincerà molto molto spesso a pensare a Dennis mentre Dennis si accorge subito che il suo interesse verso questa donna verso questa suora non ha niente a che vedere con l'amicizia né tanto meno con la bontà d'animo che potrebbe qualcuno avere verso una suora il suo proprio interesse fisico cioè lui si sta innamorando di questa donna mentre lei lo capisce ma allo stesso tempo cerca di rinnegarlo cerca di trovare conforto nelle sue preghiere cerca di pregare Dio in ogni modo affinché lui appunto gli dia la forza per contrastare questo amore che è del tutto impuro vedrete che in realtà a un certo punto gli argini di questo amore tenuto a freno si spaccano, si rompono vanno in frantumi e quindi i due avranno finalmente un contatto e anzi avranno una storia d'amore e riusciranno anche a scappare perché la città è sotto attacco e si rifugieranno in un posto in cui riusciranno a stare da soli ma ahimè le varie lingue che ci sono in paese faranno presto venire a galla tutti i problemi che comporta l'amore tra un ragazzino di 14 anni e una suora una suora di 26 anni non vi sto a svelare il finale questa è la trama sostanzialmente che dirvi vi dico che è un libro a cui ho attribuito tre stelle e mezzo su Onobi si legge abbastanza velocemente perché poiché l'impaginazione l'ho trovata buona anche il carattere della scrittura mi sembra il massimo e come dire noiato di più perché secondo me si poteva approfondire un po' di più e oltretutto mi sto accorgendo che effettivamente la cosa migliore che possa succedere secondo me in un libro è lasciare il lettore in attesa e mi ricordo infatti un libro creato all'inizio dell'estate chiamami col tuo nome che mi aveva molto appassionato perché c'era un'attesa scoppiettante tra i due protagonisti che ancora non si erano amati carnalmente secondo me l'attesa di un amore è il regalo migliore che uno scrittore possa fare a un lettore perché lo invoglia in continuazione ad andare avanti qui succede abbastanza rapidamente nel senso che nel giro di qualche pagina si svela però comunque quello che poi fa stare sul filo del rasoio è che non vi svelerò è come andrà a finire questa storia quale piega prenderà il fatto che queste due persone così diverse un ragazzino molto giovane e una donna che è una sora si sono amati con questo enigma vi lascio fatemi sapere cosa pensate di questo libro scusatemi se lo avete letto sono curiosissima di sapere i vostri commenti e come al solito ci vediamo qui nel prossimo video ciao ragazzi